Buongiorno a tutti, good morning in Genova. Oggi vedremo una piccola sequenza di uno stile di yoga un pochino più attivo che si chiama Vinyasa e che vi può aiutare molto con le vostre anche. Ci andiamo a mettere nella posizione del bambino, facciamo alcuni respiri profondi in questa posizione, rilassiamo bene la schiena, la massaggiamo attraverso il nostro respiro, possiamo fare dieci respiri profondi. Dopo questi dieci respiri saliamo in Konasana. Appoggiamo bene i talloni a terra. Spostiamo in avanti il peso, portiamo un ginocchio destro al petto e poi spingiamo la gamba destra verso l'alto e pieghiamo il ginocchio. Respiriamo. Portiamo in avanti la gamba destra all'appoggiamo. Entriamo nel guerriero. Restiamo. Respiriamo. Distegniamo la gamba destra. Il braccio destro rimane alto e facciamo scivolare la mano sinistra lungo la gamba sinistra. Ripieghiamo il ginocchio destro, rientriamo nel guerriero. Restiamo. Respiriamo. Appoggiamo le mani a terra e rientriamo di nuovo in Konasana. Ora eseguiremo la sequenza dalla parte opposta, quindi ginocchio sinistro al petto e su verso l'alto. Il piede sinistro va appoggiarsi in avanti e entriamo nella posizione del guerriero. Restiamo. 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 Stendiamo la gamba sinistra. Facciamo scivolare la mano destra. Lungo la gamba destra. Restiamo in posizione. respiriamo. Scendiamo. Rientriamo nel guerriero. e ci riportiamo di nuovo in Konasana. e sciogliamo. Questa posizione, anzi questa sequenza, potete ripeterla anche più volte. Mi raccomando, rispettate sempre i tempi. cercate di fare qualche respiro profondo in ogni passaggio della sequenza e fatemi sapere come è andata. Buona giornata.